Buongiorno, buongiorno, you can hear, da come sentite ho la voce bassa oggi, so today I'm going to shift my rhythm, and I'm going to be closer to the ground, I did some of my inner work this morning to bring back my voice, and it's back, you know, I didn't have any this morning. But after feeling the ground and breathing from the ground, and it makes me think that if this symptom is not just mine, and it makes me think that if I think about the field theory, and the theory of quantum physics, then I imagine that we all need to go closer to the ground. Allora posso immaginare come tutti dobbiamo avvicinarci di più alla terra. I imagine that yesterday we activated a lot of energy. A lot of energy got released, that was stuck. Si è proprio rilasciata, no? Tanta energia che era forse incastrata in qualche modo. Energy that needs to engage with life, leadership equals engagement. e questa energia che deve lasciarsi coinvolgere con la vita, no? Leadership significa coinvolgimento. So I imagine that some of you may also be feeling some symptoms. E quindi può darsi che anche alcuni di voi di avere più sintomi. ma è normale. Quando si lascia libera l'energia, è come l'omeopatia, il sintomo momentaneamente diventa più grande. Quindi oggi ralentiamo un po', in modo tale che il lavoro che andremo a fare si prenderà cura dei nostri corpi. Also, I imagine in Italy, it reminds me of Spain, one thing. L'Italia oltretutto mi ricorda un po' la Spagna per una cosa. When I teach in Spain, the natural style in the culture, quando insegno in Spagna, considerando proprio lo stile naturale della cultura, it's high pitch. C'è questa tendenza ad essere tutto molto alto, molto pieno. What's more marginalized? It's a lower drum. Boom. 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 So today we do a lower drum. e quindi oggi invece lavoreremo in un setting più pacato. Some of you may feel, as we do this work during the day, in a lower rhythm, alcuni di voi oggi lavorando in questo ritmo un po' più rallentato, may start to feel allergic to it. Potreste forse sentirvi un po' allergici a questo ritmo. Because you may start to want faster. And that's okay. I want to invite you to try a different rhythm. So... Non abbiamo usato il microfono neanche ieri. E lei che ha la non c'è. Tenderò io ad alzarla un po' di più. Allora... Alzo io se ne sentite. So I wanna talk a little bit more. I wanna do two things. Voglio fare due cose. First of all I want to welcome those that were not here yesterday. Innanzitutto voglio dare il benvenuto a coloro che non erano qui ieri. Welcome. So maybe, can I see you stand up? Posso chiedervi di alzarvi in piedi, voi che non c'eravate ieri? Welcome. Benvenuti. And I also want to actually apologize to those that are on the streaming. E voglio chiedere scusa a coloro che ci seguono via streaming. I'm quite used to working with camera and with streaming. Perché sono abituata a lavorare con la telecamera in streaming. But yesterday I didn't acknowledge you. Però ieri effettivamente non ho tenuto conto del fatto che eravate me. But I'm aware that you are there. Però sono consapevole anche che sia degli in streaming. So welcome to you as well. E quindi benvenuti anche a voi. So I want to say today, yesterday, process work, l'arte del processo, the art of process, this methodology, it's a multidimensional and holistic methodology. Allora, volevo dirvi che appunto l'arte del processo è una metodologia multidimensionale e olistica. So yesterday, if you look at this symbol, so with this methodology you need to work on the eye. E quindi osservando un po' questo simbolo, attraverso questa metodologia bisogna lavorare sull'io. So yesterday we had a little taste of how you can expand your style of engaging with the world. E quindi ieri abbiamo sperimentato un po' di come espandere il proprio io per essere poi coinvolti con il mondo. Oggi ci concentreremo sul noi e quindi sulle relazioni. E questo significa insomma come entriamo in relazione, come siamo coinvolti con il prossimo. Quindi la qualità della comunicazione, la qualità dell'ascolto e la qualità del coinvolgimento. E parleremo di conflitto. Perché tra le persone c'è almeno una cosa certa, l'amore e la guerra. Vengono insieme. Quindi amore e conflitto. Sono due facce della stessa medaglia. Dello stesso maestro, dello stesso insegnante. Non parlo della guerra in un modo fisico. Mind you that also exists. Però chiaramente anche questo esiste. I talk about war in a metaforic way. Parlo della guerra in un senso metaforico. Most of us think about conflict as a moment of winning or losing. In genere pensiamo al conflitto come un momento in cui si perde o si vince. Process work thinks about a conflict. Ma l'arte del processo pensa al conflitto. Come un punto di potenziale trasformazione e cambiamento. in un punto di potenziale. In un punto di potenziale. In un punto di potenziale. lo analizzeremo domani e riguarda i sistemi, i gruppi e il mondo. Io sono il mondo e il mondo è me. E tramite questa metodologia se si crede nel concetto di democrazia profonda. Allora si è interessati alla comunità interiore ed esteriore allo stesso modo. Alcuni di noi sono più interessati alla comunità esterna. e poi marginalizziamo la nostra comunità interiore. Così poi non siamo congruenti. Alcuni di noi sono molto interessati all'io. Ma che cosa succede se si è solo interessati all'io? Non si riesce più a trasmettere il proprio apprendimento e si diventa degli eremiti. e si può diventare arroganti nella propria conoscenza. Questo conflitto non è per causa mia, non mi riguarda. Dovete solo meditare. Meditate voi un po'. Fai un po' di terapia. No, questo atteggiamento così. Non è utile. Quindi se siete interessati ad una formazione a lungo termine appunto sulla democrazia profonda. Eticamente non si può escludere alcuno di questi livelli. anche se, secondo la tua concezione, qualcuno di questi livelli potrebbe essere meno importante. Ok? Andare ad analizzare un po' secondo la visione del mondo appunto il concetto della comunicazione. E poi faremo degli esercizi di gruppo. Così poi può essere un po' tutto più pratico. Quindi l'arte del processo considera il mondo come un'esperienza a multilivello, multidimensionale. Quindi immaginiamo un albero, ok? Quindi in cima all'albero, i rami, abbiamo ciò che chiamiamo la realtà del consenso. Consenso è tutto ciò che puoi misurare e puoi pesare. E' anche esplicito. Ok? Quindi quando lavoriamo con i gruppi, o con la forma che abbiamo avuto la vita, ciò che vive qui, nella realtà del consenso, sono tutte le strutture, le politiche, gli accordi, la legge. Quindi quando lavoriamo con i gruppi, con le organizzazioni, tutto ciò che ha a che fare rientra nella realtà del consenso sono le strutture, le politiche, gli accordi, i contratti, sostanzialmente la legge. The contract. The contract of how to behave. E il contratto anche di come comportarsi. Every group, every system has a law. Ogni gruppo, ogni sistema ha una legge. Anche la religione ha una legge. Questo è un peccato, questo non lo è. Questo è amore, questo non è amore. Anche una famiglia ha una legge. Non si bestemmia in questa famiglia. Nella mia famiglia, quando si mangia, non si mettono i gomiti sul tavolo. Ok? In un'organizzazione, la stessa cosa. Quali gruppo, qualcuno ha una legge. La stessa cosa in un'organizzazione, no? Tutti, ovunque, ci sono leggi. Ricordate cosa abbiamo detto ieri sulle leadership. Ciò che troviamo in questo livello sono ruoli strutturali. Non leadership. Non leadership. Sono cose diverse. Io posso essere la direttrice di un'organizzazione. E posso essere la madre, la mamma di una famiglia. Ma è mio figlio, colui che ha quell'energia da leadership. Ok? Io posso essere la direttrice o posso essere una persona appartenente alla politica. La leadership è un ruolo che appartiene a tutti e appartiene a questa fascia che è il mondo dei sogni. Ok? Quindi qui abbiamo un ruolo strutturale. Invece qui, nella realtà del consenso, abbiamo un ruolo strutturale. Mentre nel mondo dei sogni, che è la parte seguente dell'albero, abbiamo un ruolo che appartiene a tutti. Quindi vi spiego che cos'è il mondo dei sogni. È un mondo non esplicito. È soggettivo. E dipende dalla tua visione del mondo. Quindi, qui ho questo. Qui. Ok? Ho questi papi qui. Sono materiali, molto importanti materiali nel consenso della realtà, con tutte le mie noti. Quindi, nella realtà del consenso, è un materiale molto importante, perché ci sono i miei appunti. E do questo materiale ad uno dei miei migliori amici che è autistico. E glielo do, lui guarda il materiale. E questa è una storia vera, è accaduto veramente. E lui mi fa, oh Anna, devo andare in bagno. E gli faccio, ok. E quindi va in bagno. E va in bagno con i miei documenti, insomma con le mie carte, e si pulisce con le mie carte. E io sto cercando le mie carte. Molto importanti. E lui mi fa, beh ho usato la tua carta in bagno perché in bagno non c'era la carta igienica. Questo è il mondo dei sogni. Per lui non erano carte importanti. Per lui non erano carte importanti. Però per qualcun altro lo erano. La stessa cosa con i bambini, no? Si dice, no ti prego non lo toccare, me l'ha regalata la mia nonna, è speciale, stai buono, non toccare. E il bambino dice, ah quanto è bello, ma è un gioco. Ci posso giocare, che bello. Quindi il mondo dei sogni è soggettivo. Quindi per argomenti più complessi diciamo è un'esperienza più elaborata. Per cui se penso che l'accordo di arrivare in orario, no? Parliamo dell'arrivare in orario, parliamone. Quindi se penso che questo è importante. Io mi sono svegliata stamattina con il mio mal di gola per essere qui in orario. Per me è importante. Ho vissuto in Scozia, quindi in un paese nordico, per 22 anni. Se dico, arrivo alle 9.30, arrivo alle 9.30. A meno che non sia successo qualcosa di particolare, un problema con un figlio o qualcosa, insomma, per carità. Quindi quando vado ad insegnare in Spagna, ho dovuto imparare a essere più rilassata. perché per me il tempo è molto importante nella realtà del consenso. Ma per come le persone percepiscono il tempo in Spagna, per esempio, è diverso da come lo percepiscono io. E devo rispettarlo. Perché fa parte della cultura. Percepiscono il tempo in maniera diversa, pur rimanendo importante. Sono nata in Spagna, però avevo dimenticato questo aspetto. Il modo in cui considerano il tempo in Spagna è un po' come lo considerate qui. Ho la sensazione che non siano spinti dal tempo, no? Non siano pressati dal tempo. E io ho iniziato invece a sentire la pressione. Nella mia realtà del consenso ho iniziato a ritenere il tempo talmente importante che effettivamente mi stava opprimendo. Chiaro, vedendo come i gruppi percepivano il tempo in maniera diversa in Spagna, potevo anche arrabbiarmi per questo. Però poi ho realizzato che dovevo rinquadrarlo nei vari livelli. E ho capito che nel mondo dei sogni percepiscono il tempo ed usano il tempo in maniera diversa. Quindi è stato salutare per me, rivederlo in questo modo. Quando si sta proprio godendo di una cosa, no? Passa un'ora e non te ne accorgi. Dice, già è finita. Quello è il mondo dei sogni. Quando stai facendo una cosa che non gradisci. Ma quando stai facendo una cosa che non gradisci. 5 minuti passano e pensi, oh shit, oh my god. Passano 5 minuti e dici, no, accidenti, siamo ancora qui, sembra già un'ora, non è possibile. E' il mondo dei sogni, è soggettivo, è basato sulla propria visione del mondo. Qui è dove troviamo i segnali della comunicazione. Nella parte centrale dell'albero è dove troviamo i segnali delle comunicazioni. Nella realtà del consenso abbiamo le regole del comportamento. E' diverso. E quindi nel mondo dei sogni abbiamo i segnali della comunicazione e la distribuzione del potere. Abbiamo anche gli stili della comunicazione nel mondo dei sogni. Abbiamo anche i sentimenti nel mondo dei sogni. Nella realtà del consenso abbiamo i pensieri strutturati, strutturali. Qui abbiamo le esperienze soggettive. Nel mondo dei sogni abbiamo le esperienze soggettive. Ora, tra poco vi spiego come questi mondi si incontrano e lavorano nell'ambito della comunicazione. Allora, nel mondo dei sogni abbiamo i ruoli e quindi abbiamo anche le polarità, ovvero vari punti di vista. Il mondo dei sogni per me è creato e formato da ciò che mi è stato insegnato o non insegnato per quanto riguarda la religione. Mentre crescevo. La cultura. Dipende dalla cultura. La mia famiglia. La mia famiglia. La scuola. Il mio paese. Quindi quando vado a lavorare in Sud America, ci sono certi modi in cui parlano lì. Quando lavoro in Cina, c'è uno stile nella comunicazione. Che è diversa da quando lavoro in Spagna o in Europa. E' la cultura che si trova appunto nel mondo dei sogni. Mentre nella realtà del consenso è strutturale. E nella parte superiore dell'albero non si tratta di potere, si tratta di ranghi e di privilegi. Nella realtà del consenso si tratta di ranghi e privilegi. Consenso del consenso se sono bianco. Consenso del consenso? Sì, la realtà del consenso se sono bianco. Una bianca. Una bianca. Ho certi privilegi. Se sono una bianca in Spagna. Nella realtà del consenso cambia, no? Se sono una donna bianca europea anziché una donna in Bolivia, per dire. Quindi nel tuo caso, venendo dall'India, per esempio, sono certa, assolutamente certa, che a causa del colore della tua pelle, sperimenterai meno privilegi in Italia. In certi momenti. Non sempre. Sono certa. Ma è perché la cultura in Italia, e pensiamo in questa cultura che sei, appartieni alla minoranza. Quindi sono certa che hai dovuto adeguarti molto alla cultura qui. E spesso, forse, la cultura qui non sia adeguata abbastanza a te. Questo ha a che fare con i privilegi della realtà del consenso. E così come con le varie vedute del mondo, nel mondo dei sogni. Quindi quando si lavora con la diversità, bisogna essere consapevoli della diversità nella realtà del consenso. E domani lavoreremo, appunto, sui pregiudizi. Bisogna farlo. Se siete veramente interessati nella democrazia profonda, bisogna essere liberi dai pregiudizi. Non sono interessata ad essere libera dai pregiudizi. E' importante, invece, che sappiate, conosciate i vostri pregiudizi. Perché li avete? Da dove vengono? E come volete cambiarli? A me interessa questo. Dovete comprendere la vostra visione del mondo, i vostri privilegi e come li usate. Oggi ci concentriamo sul mondo dei sogni, che è la comunicazione. Ora, l'essence. Cosa è l'essence? E questo è il io. Potete vedere? Io ho certi modi di fare cose. Io ho certi sistemi di credito. Vedete come l'albero si va componendo. Quindi, la realtà del consenso, abbiamo l'io. Questo è il mio modo di fare le cose. Tutti gli archetipi. Tutti gli archetipi, i vari modi. Ok? Different world views. I have a world view. I feel, I am the kind of person that sees and feels the world in a particular way. E poi, il mondo dei sogni è il modo in cui io vedo determinate cose. È la mia visione del mondo. Ok? Il modo anche in cui sento, percepisco il mondo. Il modo in cui comunico. Now, essence. The same with the we. Groups. Exactly the same. Think the same. A group. So, I'm not gonna repeat. E la stessa cosa vale per il noi. Vale per i gruppi. Ok? Nella stessa struttura che abbiamo visto finora. Now, essence. Ora, la base dell'albero c'è l'essenza. In greco lo chiamavano Unus Mundus. Nella fisica quantistica lo chiamano il campo quantistico. In alcune religioni lo chiamano Dio. In altre religioni lo chiamano l'amore universale incondizionato. Now, what is this about? Ora, di cosa stiamo parlando? The essence is about your deepest sense of meaning. L'essenza ha a che fare con il tuo senso più profondo di chi sei. Now, what does that mean? In the essence. Here, can you see there is polarity in the structures, in consensus reality you have polarities. Allora, nella realtà del consenso, ok? Vedete, abbiamo la polarità. Yeah? In dreamland you have emotional polarities and different points of view. Nel mondo dei sogni abbiamo la polarità dei vari modi. Vedete? Polarities in structural roles in consensus reality. Quindi, nella realtà del consenso, la polarità è nei ruoli strutturali. In dreamland polarities in roles, emotional roles. Nel mondo dei sogni la polarità ha a che fare con i ruoli emozionali. In essence there is no polarity. Nell'essenza non c'è alcuna polarità. Nell'essenza siamo tutti interconnessi. Nell'essenza abbiamo ciò che ho spiegato ieri, appunto il Tao. Quindi, la visione del mondo dice, nell'essenza, tu sei io. From the essence level, if the earth hurts, I hurt. Quindi, dal punto di vista dell'essenza, se la terra è ferita, soffre. Se la terra soffre, anch'io soffro. Ok? So, from the essence level, if I think about my family, I share with you the cancer in my family. Quindi, dal punto di vista dell'essenza, se penso alla mia famiglia, gli ho condiviso la mia esperienza in famiglia. Il loro cancro non è solo loro, ma è anche mio. Ok? So, the quantum field is here. Quindi il campo quantistico si trova nell'essenza. Questo significa che se lavori sulla tua rabbia, lavori sulla rabbia del mondo. Significa che se lavori sulla tua abilità di amare, lavori sulla abilità di amare nel mondo. Ok? So, at the essence level, this is called, this is your third attention. Quindi, a livello dell'essenza, questo è ciò che chiamiamo la tua terza attenzione. Nel mondo dei sogni, questa è la seconda attenzione. Consenso is reality, first attention. Nella realtà del consenso è la prima attenzione. Nella prima attenzione, ricordate i canali della comunicazione. First attention, the first thing I see and I grab. Quindi, nella prima attenzione, la prima cosa che vedo, afferro. The first thing I see and I hear. La prima cosa che vedo è che sento. Ok? No, che oigo. Che oigo. Yeah. Che è stato? Now, second attention. La seconda attenzione. What I feel is beyond seeing, beyond hearing. Che proprio perception. Ciò che percepisco e va al di là della vista e dell'udito. Ciò che abbiamo fatto ieri. la capacità di percepire, di sentire le varie esperienze. Quando si lavora con i gruppi, è necessario avere la prima attenzione. e rispettare la cultura e le regole. Ma hai bisogno della seconda attenzione per percepire ciò che sta accadendo al di là delle parole. Seconda attenzione. I movimenti. Ciò che dice il corpo. La terza attenzione è ancora più profonda. Questa attenzione riguarda l'intuizione più profonda. Nell'arte del processo parliamo di questa attenzione. Come piccoli. You can see how medicine I am. Flirt in what sense for you. Flirt means. I'll give you an example of third attention. Ok. So. When I used. When I went to the states. Oh, vi do un esempio di terza attenzione. Questo è un esempio reale. Quando sono andata negli Stati Uniti. E ho trascorso una settimana con i nativi americani dalla tradizione del Dakota. Ed ero seduta accanto ad un anziano. E spiegavo all'anziano che cosa avremmo fatto nei giorni seguenti, quindi nel ritmo della vita. E lui mi fa così. Close his eyes. I thought he's gone. Ha chiuso gli occhi. Pensavo che veramente fosse morto. Close his eyes. Chiude gli occhi. And he went like this. E mi fa così. And then he went like this to the earth. Put his ear on the earth. E poi ha messo proprio l'orecchio al suolo. And then he said to me. E poi mi fa. Mi dice. It's the time of the buffalo. È il tempo del buffalo. And I said what do you mean? And I said what do you mean? And he said the buffalo is coming. And he said the buffalo is coming. So we need to prepare for the buffalo. Quindi dobbiamo prepararci per il buffalo. And I understood the third attention. E ho capito lì la terza attenzione. You feel the headache before it arrives in consensus reality. Senti il mal di testa prima che arrivi nella realtà del consenso. Your third attention is you have a flirt. A little feeling that is almost, it almost goes like this. Nella terza attenzione hai quell'attimo in cui ci sei quasi. È come se stai per afferrarlo. E cade. E cade. Ma ci sei quasi. Quindi mi sveglio la mattina. E dico. Mmm. I feel a headache coming on. E dico. Ah. Sento che mi sta arrivando un mal di testa. Yeah. I marginalize that feeling. E ho marginalizzato quel sentimento. Quella sensazione. E ho continuato con la mia giornata. Non ho bevuto acqua. E nell'arco di tre ore avevo un mal di testa martellante. Quindi la terza attenzione è un lavoro di prevenzione. Lavorando con i conflitti, per esempio, avverti, senti quel conflitto tra te e il tuo partner nella terza attenzione, prima che si concretizzi nella realtà del consenso. La maggior parte di noi mette da parte, marginalizza questo sentimento. Non prendiamo seriamente la nostra terza attenzione. E poi ci sorprendiamo. Ma se si prende sul serio questa terza attenzione. Poi capisci che devi intervenire prima che la cosa si ingrandisca. Perché se prendo sul serio la mia terza attenzione fin dalla mattina. Vado dal mio partner. E gli dico, guarda, non so esattamente perché. In realtà io stessa non capisco. Ma avverto un po' di tensione tra di noi. Non so se è solo una cosa mia o se lo percepisci anche tu. E sono interessata a sapere che cosa ne pensi. A quel punto la persona forse dice, no? Beh sì, effettivamente sento che c'è qualcosa. E ieri hai fatto qualcosa che mi ha ferito. E l'ho marginalizzato. Quindi sì, effettivamente no, non mi sento tanto bene. Però vedete quanto efficiente. Però abbiamo paura di farlo. E lo marginalizziamo. E pensiamo che la prima attenzione sia quella più importante. Tutti sono importanti, no? Però se si marginalizza la terza attenzione, si sarà sempre esausti. Per esempio, mi sveglio la mattina e penso a mia sorella. mia sorella ha vissuto in Italia per 12 anni. Quindi non l'ho vista molto, non la vedevo spesso. Ora mi fido della mia terza attenzione. Non lo marginalizzo più. Quindi la chiamo. E le dico, Maria, non so perché, insomma. Però ti sto pensando intensamente. Mi sta succedendo qualcosa. Durante la telefonata scoppia a piangere e mi dice, sto lasciando l'Italia, sto venendo a vivere in Spagna, e sto lasciando il mio partner. Non so che cosa accadrà. E questa è la terza attenzione. Quindi questi segnali nella terza attenzione sono veramente segnali minimi, no? Quando sto parlando, per esempio, col mio partner vedo la terza attenzione, la sento ed è davvero un segnale minimo, è proprio così, un attimo. È minimo. E senti qualcosa di forte. Ora, questo è proprio l'essenza, è al cuore della risoluzione dei conflitti. Per poterci arrivare, bisogna lavorare sulle abilità di comunicazione. e bisogna lavorare prima sulla seconda attenzione. Il che significa imparare a comprendere i segnali del corpo. Come questo. Come stai? E lei? Va bene! Molto bene! Bene! Che cosa vi viene da pensare? Questa è la seconda attenzione, è più ovvia. Ok? Quindi, prima della pausa, adesso facciamo un primo esercizio. Ok? E poi parleremo di nuovo della comunicazione. Però, prima di fare l'esercizio, avete domande? Quindi, quando siamo nel primo esercizio, osserviamo il pensiero condizionato. Quando passiamo nell'essenza, osserviamo la condizione, non la condizione. That's right. In essence, in essence, the feeling I have with my partner that something is a bit tense, is not yet polarized. Sì, nell'essenza, la sensazione che ho, che c'è qualcosa che non va con il mio partner, non è ancora polarizzata. Quindi, non sono ancora arrabbiata con lui. Yeah? I'm not yet polarized. I have a feeling and I'm curious about it. Ho una sensazione e sono curiosa di andare a investigare. But I'm not yet in tension, in full tension with my partner. I'm not yet saying to my partner, pfff, ma non sono in tensione con il mio partner. Yeah. Non lo mando a quel punto. I'm not yet saying you are not listening to me. Non gli dico, ehi, guarda, non mi stai ascoltando. I'm not yet in that level. Ok, non sono a quel livello. But I feel it. Ma lo sento, lo percepisco, sta arrivando. Another thing about the essence. The essence, a part of that. That's the skill of essence. E questa è proprio l'abilità iniziale dell'essenza. It's very interesting. There was also this experience. I live in Scotland in a fisherman's village. C'è un'altra esperienza interessante che ho fatto in Scozia, in un villaggio di pescatori. I don't look at the weather report in the internet. Never anymore. It's always not true. Ormai non guardo più, non guardo mai, le previsioni del tempo su internet. Tanto sono sempre false. It never works. Non funziona mai. I call one of my friends that are fishermen. Chiamo uno dei miei amici pescatori. And I say to them, what do you think about the weather the next few days? E dico, come sarà il tempo nei prossimi giorni? I'm not joking. And he says, just give me a moment, Anna. No, no, non scherzo, è vero. E lui mi dice, aspetta, dammi un attimo. He puts the phone down. Mette giù un attimo, posi il telefono. Esce. E fa così. E poi si tocca le ginocchia. E poi torna al telefono. E mi dice, guarda, ci sarà tanta umidità e pioverà. Però in quel momento c'è il sole che spacca. Nel passato pensavo che era matto. Ma ha sempre ragione. L'internet. L'internet. Osserva il clima attraverso questi schemi della realtà del consenso. E spesso c'è zecca. Però un'altra cosa che fa parte dell'essenza è i tuoi valori più profondi della vita. Anche quando sei depresso e il mondo è senza speranza, il tuo livello dell'essenza è ciò che ti aiuta ad alzarti la mattina. È la tua fede che non può essere scossa. In qualunque modo tu riesci poi a rientrarci. Nelson Mandela ha trovato la sua fede in prigione. Lui era in prigione ma a questo livello nella realtà del consenso. Non dico che era perfetto. Ma nella realtà del consenso lui era in prigione. Ma lui stesso ha detto io ho trovato la mia libertà e quindi l'essenza che era in prigione. L'essenza esiste a dispetto della realtà esterna. È indipendente. È per questo che non è polarizzato. Ed è per questo che non è solo tuo, non è personale ma appartiene al campo. È indipendente dalla cultura. È indipendente dai privilegi. Molte minorità e gruppi minorità. Come, ancora, quando ero in Bolivia and I went to the mountains to work with the Quechua people. Quando ero in Bolivia, parlando delle minoranze, quando ero in Bolivia lavoravo lì nelle montagne. Ho imparato molto dell'essenza. Perché quelle minoranze non hanno privilegi nella realtà del consenso. Sono oscuri di pelle, non hanno scuole, non hanno università, sono bassi. Non sono come gli altri boliviani che avendo una pelle più chiara hanno più privilegi come gli spagnoli. Quindi il loro livello di valori nel livello dell'essenza sono molto forti. Sono proprio i loro radici. Si svegliano la mattina. Ci svegliamo la mattina e mi dicevano, Anna, oggi da mangiare c'è solo questo. C'era solo una grossa coppa di patate che avevano appena rinforzo. E loro erano felici, erano contenti. E io guardo le patate e dico, no, scusate. E questo loro lo vedono in me. E quindi mi chiedevano, no, ma perché sei così scontenta, sei infelice, sei viva. Ti sei svegliata questa mattina. E ho pensato, Dio. È vero, hanno ragione. Quindi questo livello, il livello dell'essenza è ciò che ti spinge ad alzarti la mattina anche al momento peggiore di infinita depressione. È l'ultima cosa che voglio dire. È molto importante. Ora, molte persone quando vedono questa struttura, queste livelli, le persone in generale vedono tutte queste strutture, tutti questi livelli, guardano il livello dell'essenza e danno più valore a questo livello che a qualunque altra cosa. Anche questo non è profondamente democratico. Se volete essere interi, anche come gruppo, bisogna essere bravi in ogni livello e dare il giusto tempo a ogni livello. Devi imparare a guidare l'auto così non sei un pericolo nella realtà del consenso. Devi imparare il tuo stile di comunicazione e lavorare su te stesso nel mondo dei sogni. E imparare a lavorare con i conflitti e con le diversità. E devi nutrire il tuo senso più profondo di chi sei. affinché quando il mondo è caotico, quando la vita è caotica, come adesso, quando la vita è piena di incertezze, quando perdi i soldi, quando perdi i amici, la famiglia perché deceduti o altro, la tua essenza, la tua radice, può avere la capacità di restare fermo, saldo, in un momento di fuoco. Quindi tutti i livelli sono importanti. Ma non dovete aspettarvi che tutte le persone sperimentino, vivranno il livello dell'essenza come lo sperimentate voi. Questo è un altro problema. La gente dice, eh, visto che non è dualistico, lo sperimentiamo tutti allo stesso modo. Ma non è così, non è reale. Le guerre maggiori sono dovute proprio al livello dell'essenza. Il mio Dio al di sopra del tuo Dio. Il mio Dio al di sopra del tuo Dio. Quindi il livello dell'essenza è sempre, si sperimenta, si vive in un modo diverso. Anche se siamo tutti connessi ad un terreno comune. Facciamo una pausa qui e poi torniamo per fare l'esercizio sulla comunicazione. Quale tempo è? È 10-11. 10-11. Siamo tornati a 5 past. 10 past. 10 past. 5 past, per cominciare a 10 past. Quindi, a? 15 minuti. Alle 16.00. È possibile! Alle 11.05. Ok? 15 minuti. Questa è per la nuova. No, per la nuova. Questa è qui. Ah, è tutta la nuova. Questa è la distribuzione di ruoli. Grazie. Grazie. Mamma e figlia, tutte e due. Grazie. 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 Grazie.